Eeeh what's up tutti ci sono e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su Silence Ciao ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Piccola precisazione Qualcuno di voi mi ha detto che questo è effettivamente un sequel Quindi che c'è stata una parte 1 In cui appunto c'era Noah all'interno di questo mondo chiamato Silence Però fortunatamente ragazzi nel primo episodio Noah e la sorellina Rini riassumono praticamente quello che è successo nella parte 1 Per cui non avremo problemi comunque a giocare questa parte 2 Eravamo arrivati qua ragazzi e adesso la nostra prima preoccupazione è scoprire come arrivare qua su ragazzi Per cui la palla di pelo l'avevamo già analizzata Il fungo Vabbè ma questo poco ci importa Torna verso il verme non saprei sinceramente Vediamo un attimino Se qui possiamo trovare qualcosa di utile Fungo possiamo staccarlo Che servirebbe staccarlo? Forse non ci servono Testa della statua Riusciremo a spostarla? Davvero? Beh sì per questa Eh appunto Come diavolo possiamo fare? Oh mio dio davvero? Ah nell'uovo Ma che carino È il verme di cui parlava Aspetta non si può Non si può schiudere perché? Proviamo a tornare di qua e vediamo se abbiamo qualcosa di utile Oh mio dio Oh mio dio Ma che cavolo Aspettate allora La palla di pelo a quanto pare È golosa di vermi Mettiamo un secondo Sì ma Ma i bruchi non se li mangia Ah quindi dobbiamo Dobbiamo far uscire la palla di pelo da lì Ah il verme Prendilo Che sicuramente Ah ecco Me lo stavo a dire Probabilmente Sicuramente sì Ci servirà per far uscire la palla di pelo dal nido Perfetto Oh mio dio Se l'è divorato Ora o mai più Mettilo lì dentro No Non perdere tempo Mentre lui si fa il suo delizioso banchetto con quel verme e bello grasso Perfetto cara la mia palla di pelo Ma che bellissimo Spot È tu È davvero tu Come here Oh no Non vorrei mangiartelo Spero Caro la mia palla di pelo ti prendo a calci eh Spot vieni qui Che poi spot è un bellissimo nome per un bruchetto Amore Ma sei una delle cose più tenere che io ho più mai visto Perfetto Sposta il cursore su spot e apprima il tasto del mouse muovendo contemporaneamente il cursore in basso Per accedere alla forma piatta di spot Perfetto 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 Ecco fatto Oh Pazzesco Ah ok così perfetto Proviamo così Magari ci aiuta Dandoci un po' di supporto Insomma Madonna poverino Si schiacciano Si schiacciano la faccia Ah ecco fatto così Che figata Pazzesco Per riprendere per riprendere spot Va bene Un bruchino Non ti si può tipo aggrappare a una spalla Una roba in genere Magari ti si appiccica la faccia Così lo porti fin su Probabilmente no Va bene Vorrei dire che torneremo a prenderlo Non c'è alcun problema Wow Amazzo Oh 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 Hey Why did you take off that fast What took you so long Where's Rini We'll meet her after I blow up this bridge After you What Do you have a death wish Did you kill Rini Nonsense I'm Kyra Leader of the rebels I'm not a murderer All right All right Okay And I won't leave before this bridge is destroyed Am I clear Crystal clear Why are you telling me this anyway Because You'll help me do it Damn The lights are on What does that mean The Seekers are on the way Ah Perfetto Why What is that Just keep pressing it down Okay Ti aiuto Just to get things straight That is supposed to be a bomb Right Yes Ah All right 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 Sì Questo è chiarissimo Noa Ma no 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 We've been waiting for a long time For a hero like Why should I Oppure la sarcastica Che domande Falsa regina Ecco fatto Ma sì Dai Facciamo un attimo I grand'uomini Che sta ragazza È proprio carina Magari ci possiamo provare Dai Tac Ma che bello C'è pure il carrion Incorporato Ma che ca... Ma che ca... Stato per esplodere Noi eravamo Calmissimi Chi è? Beh Eh sì Infatti Ne manca uno Caro Non ci ho Abbiamo Allora Noi Abbiamo Ah Abbiamo 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 We allemaal Abbiamo Abbiamo Perché l'ho creata io con la mia immaginazione praticamente Stelle di pietra Verso calma Ok Proviamo un attimo a riscendere qua nella rupe ragazzi Perché effettivamente magari spot potrebbe esserci utile Il punto è che c'è Come lo portiamo su? Dranchio volante Via Ma che carino il dranchio volante È tenerissimo Ah magari ho trovato la soluzione Aspettate Soltanto facendo così un piccolo tentativo Oh mio dio Sì ma no cavolo Ma che veramente Non siamo capaci di lanciare manco una palla Clicca con spot sulla pozza per accedere a una nuova forma di spot Questo è interessante allora Oh mio dio Wow 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 è diventato inspiegabilmente Ah possiamo annappiare anche il fungo ragazzi fantastico perché noi all'inizio avevo detto che non vedeva acqua da un bel po' Magari ci serve Magari ci serve Wow Possiamo usarlo Putz fungo Sì possiamo usarlo per Spararlo forse Ammazza che schivo Ha scorreggiato in una maniera Direi O scena Ah spot a quanto pare È goloso di funghi ragazzi Proviamo così Ok finalmente Benissimo Devo farcelo rimbalzare ragazzi Quando era sotto Aveva aspetto normale praticamente Non può andare a gonfio come una palla Va bene l'importante è trovare le soluzioni Ci siamo finalmente Vediamo un attimino com'è che possiamo Risolvere questa situazione con spot Ce la farà Le luci rosse hanno lampeggiato ragazzi Oh merda No 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 Ok Oddio come faccio Come faccio Come faccio Non lo so ragazzi Non lo so Non andare Oh no Come cavolo facevo Come cavolo faccio Facevo Faccio Ah ok Dovevo continuare a farlo gonfiare Grande Adesso Mica è potentissimo Sto brugo Ma come da quella parte Il ponte è stato appena Ristrutto Siamo a posto ragazzi State tranquilli Il ponte è stato letteralmente Fatto crollare Proprio senza pietà Spot si è gonfiato a tal punto Ora ristruggere Quell'anello fatto tipo D'acciaio inox Qualcosa di incredibile Va bene Che bello sto posto Vini Allora questo è un amico Saprò parlare Sì Oh Oh mio dio Mi sa di sì Ti pare che la stomata Un bambino Così più che la faccia Quel rumore C'è una pianta carnivora qui What the fuck Va bene Ah poverino Ti aiuto io Ah Ce la farà Tirarlo fuori No dai Ho capito Se l'hai letto Montevo i ricordi Siamo proprio nella cacca Oh mio dio Eh Molla 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 Ma che cavolo Molla L'ho presa L'ho presa Eh no Oh Hai ragione Ricorda il giorno Il giorno in cui Mangiasti dei fiori Perfetto 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 Quindi possiamo guidare anche la piccola Rini, non solo Noa, le bacche come saranno? Saranno amare schifose? Provane una e vediamo un fogliettino, com'è? Mangiare un altro paio, ok, ma sei tranquillo, tranquillo, so quello che faccio. Oh, lo so che fa, ma è coraggio, non fare il timido. Mizzica al volo, grande. Sì, 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 lo so, lo so, potestà che vediamo i funghi. Sì, ma come facciamo a prenderli? Ah, ok, questo. Com'è? Oh no! Oh no! Oh mio Dio! Sono funghi allucinogeni! No, 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 lascia perdere, lascia perdere, non vorremmo di certo far drogare una bambina, ragazzi. Ah, ok. Perfetto, non lascerò stare allora, direi, attraverso le radici, vediamo se troviamo qualcosa qui. Sì, tranquillo, sono qui dietro. Devo pur trovare qualcosa per liberarvi, o no? Eh, scusa tanto. Oh mio Dio! Mazza che insettone, oh! Ma sicuro che possiamo trovare? Guardate sto teschio, ragazzi. Ma perché dovrei leccare il teschio? Posso dargli da mangiare? A parte che le ossa, cioè, come le stacco? Ma che veramente? È il muschio, magari. Ok, non è amaro, d'accordo. Ah, il fiore è zecca del miele, che schifo. Però è luminescente, è carina, c'ho un di dietro enorme, ma fa niente. Oh, hey! Non devi essere freddo. Hello, Buzzy. Buzzy. Ah, sei nel nome. Bye, bye, Buzzy. Ciao, grazie. Certo, certo. Miene bollente, ma che veramente ci vogliamo pelare? Minchia, la lingua. Maschera di... Come si chiamavano Seekers? Hey, cosa è questo? No, 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 non te la mettere. Lasciala stare, Rini. Per carità. Questa è magia nera. C'è sfuglia di bacche. Ok, quindi... Super, super bitter. Per arrivarci. Sì, 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 ma ci dobbiamo arrivare. Qua c'è una pozza di catrame. Non credo sia consigliabile entrarci. No, che non ci arrivi, Rini. Sì, non te ne rendi conto? Sì, subia. Certo, certo. Ok, perfetto. Oddio, mi fa un paura ste cose, ragazzi. Stai zitta! Maschera malefica! No, ti indosso il sopaiole vale. No, no, sì, col cavolo. Perfetto. Perfetto. Spero non succederà niente di brutto. Ma perché? Oh! No, non mi fido! Ma la smettiamo di... Di angosciarmi? Mizzica. Oh, piano, 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 piano. Dai! Dai! Oh! Uh! Che fatica! Era moscello! Ta 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 ta! Oh, merda. Si è caduto... Ah! Yeah! No, adesso se la magna! Adesso se la magna! Prendila! Oh! Non la mangiare! Che schifo! Ergo, va benissimo! Perfetto! Eh, ok, ne prenderemo almeno 3-4, mi auguro. Sì, però, sto pesce è già marrotto abbastanza, eh. Una, due e tre! Ancora! Comunque rinicio a paura di niente, ragazzi, incredibile. Direi di tornare dai nostri amici. Care maschere dei miei stivali, andate a quel paese. Io me ne vado. Ecco, miei amici, state tranquilli. E adesso... Ah, ecco. Devo tornare al miele bollente, ovviamente. Perfetto. Questo è chiarissimo. Useremo il vapore del miele bollente per estrarre l'amaro dalle bacchie, ma, eh... Come faccio? Ah, adesso lo vediamo subito. Non è che io abbia tutta questa voglia. Oh, mio Dio. Un'altra testa? Possiamo usarla? Attenta! Merda! Perché pisci? Che schifo! Ah no, il cadrame che è la gola. Panico! Ok. No, perché tu non tieni la bocca chiusa, piuttosto? Ah. Di nuovo. Eh. Non lo sappiamo. Eh, fatto sta che... Eh, possiamo... Tipo usare le maschere... Sì, per metterci sopra il miele bollente. Perfetto. Era proprio quello di cui avevamo bisogno. Tac. Tac. Oh! Merda. Eh, merda. Eh... Ok. Eh... Panico! Uh! Oh, merda. Adesso andrà a fuoco tutto il bosco. Eh, lo so, amore, che non avevo intenzione, però cavolo. Adesso come faccio? Ah, qua c'è una lapide, ragazzi. Non l'avevo notata. Is that a tombstone? Well, yes. Ah. Did someone drown there? In the swamp? And what does this sign mean? Eternal love or something like this one. Vabbè, quello è il simbolo dell'infinito, effettivamente. Il tappo, cioè ragazzi, perché dovrei toglierlo? Se lui mi ha detto che poi esce gas velenoso, non avrebbe senso. Vabbè, proviamo, è l'unica cosa con cui possiamo interagire, per cui... Ok, vabbè, quello ci dovrà servire, ma... Let's have another taste. Ma perché? Uuuui. Wow. Questa cosa è inquietante, ragazzi. Eh, sia onesta. Eh, sì, sì. Troppo tardi. Oh mio Dio. È stato veramente bruttissimo. Adesso sì, ragazzi, posso interagire. Ho aperto il teschio e posso interagire con le maschere qui. Ok, quindi possiamo tenerlo aperto, per fortuna. Ok, ecco fatto. Adesso possiamo entrare qui senza che ci si chiuda l'affare addosso. Ok, perfetto. Possiamo calciarlo. Oh! È questo? Qual è sta roba? È proprio quello che ci serve. Vabbè, è quello che ci serve, comunque. Stack. Oh, finalmente, ragazzi. Anche questo mistero è stato risolto. Perfetto. Allora, adesso lo utilizzeremo per metterci dentro il video. Oh, lente. Ok. Sto arrivando. Non vi preoccupate, ragazzi. Risolvo io la situation. Ecco fatto. Questa sì che fa un fuoco allucinante. Eh... Perfetto. Perfetto. Le pacche sul fuoco. Ah, ok. Perfetto. Andiamo a prendere l'acqua dal muschio, ragazzi. Perché lì ne va detto che il muschio era pieno d'acqua. Per cui abbiamo risolto anche quest'altro incredibile mistero. Ok. Perfetto. Spremilo per bene. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Sì, sap, sì. Ecco fatto. E vogliamo ste benedette bacche così che la pianta carnivora possa vomitare i nostri amici. Tac. Oh. Buttacene dentro. Certo, certo. Certo. Fantastico, la scena sarà meravigliosa. Non voglio perdermela per nulla al mondo. Tutti c'erano quei broccoli, non capisco il motivo. Sono buonissimi. Oh, merda. Eh. Sta per vomitare. Oh, mio Dio. Amico Horus. Amico Horus. Ok. Mi sono convinta che se ne andrà. Per qualche motivo. Lascia il messaggio. La concita è tua ormana. Grazie. Vabbè ragazzi, allora, io trovo veramente molto interessante il modo in cui si può interagire con i vari oggetti e il modo in cui bisogna associarli. È interessante. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un buddash a tutti ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.